EOS 2022 allo stand di Armono non manca un'offerta dedicata alle donne cacciatrici, è il modello Bormio e lo presenta con suelo mazzarolo. Grazie, sono contenta di presentarvi questo modello che abbiamo dedicato al mondo femminile per una serie di caratteristiche, non solo il colore che logicamente chiama questo mondo fantastico. Questa scarpa è costruita con materiali leggerissimi, quindi si possono portare per tante ore senza che il piede ne venga appesantito. La tomaia infatti è fatta di un pellame con una spermatura di poliuretano sopra che aumenta l'impermeabilità senza penalizzare altre caratteristiche tecniche di questo scarpone. Ha una suola Vibram con inserti in poliuretano a doppia densità che stabilizza passo dopo passo tutte le camminate. Ha un collarino morbidissimo, quindi per le donne è fantastico nel giro a caviglia e questo scanso che è sicuramente importante perché è sempre per la comodità del piede. Ve lo consigliamo. Ecco, interessante, noto anche la forma della pianta del piede, della tomaia. Sì, anche la forma è studiata per il piede femminile che tendenzialmente è più magro però sempre confortevole, insomma, sicuramente. Grazie per aver pensato anche a noi. Grazie a voi.